Cabaret! Guarda, ancora preferisco la Lanfranchi, anche se ultimamente sto stentando sempre di più a farla ridere. Oggi ci proviamo altre cinque volte. Dai! Qui, allora, il mio test drive, people on the left. Su una, due, tantissimo, sulle altre così. Vediamo te. Allora, cominciamo, amici. Nella prima siamo nello studio di un dentista. Io sono il dentista. Sì, sì, certo. Bene, allora ci vediamo tra una settimana per l'estrazione. Ah, grazie. E che premi ci sono? Cioè, pure Spagnolo l'ha capita in ritardo. No, carina, carina questa. Se il regista non mette subito la risata, vuol dire che non l'ha capita neanche Luca. Aspetta che continui, capito? Allora, fai così, mettila subito appena lui finisce, così. Va bene. Dai, passiamo alla seconda. Una brutta notizia a due amici che si incontrano. No! Una brutta notizia, non si ride sulle brutte notizie. Vabbè, lascia la perdere, Spagnolo. Vai, vai. Ma, Sergio, hai saputo? Ieri è morto il lattaio. Veramente? Eh sì, lo hanno parzialmente cremato. Allora. L'aveva chiesto lui di essere una cosa atroce. Eh, lo sapevo. Siccome io sono una brutta persona, rido. Prima ride e poi dice che è atroce. Sì, perché se ci pensate, poi razionalmente, è tremendo. Va bene. Figlio e papà. Tu sei mio padre. Che bello. Papà, papà, mi spieghi, che cos'è un alcolizzato? Allora, figliolo, li vedi quei quattro gatti? Un alcolizzato? Ne vede otto. Ma papà, i gatti sono due. Noi siamo proprio allo step successivo. Molto bene, benissimo. L'ha capito, l'ha capito. C'è anche il padre, diciamo. Cioè, è un due alla terza, diciamo la verità. Adesso io sono sempre il figlio. Sì. E tu sei sempre mio padre, credo. Sì, sì, papà. Allora. Papà, papà, mi compri un materassino a forma di bagnino? Eh, tesoro, ma non esistono. Ma come? La mamma ne sta gonfiando uno dietro lo scoglio. No! Ma è tremenda! No, ma perché io sto ridendo su questa cosa? Perché sto ridendo su questo? Il bambino giustamente dice, ma... Ma per carità, certo, aveva l'esempio. C'è, 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 l'ho visto. Quindi deve... Galleggia, galleggia. Bene. Sarà per quello che è uno... Va bene. Vai. E finiamo sempre con delle cose un po' così... Come posso dire, fisiche, insomma. La vita di tutti i giorni, ho detto i giorni. Va bene. Parto io. Sì, sì, parti tu. Allora, senti, ma com'è il ragazzo con cui sei uscita ieri sera? Ah, guarda, Roberta, di viso non è bellissimo, eh? È di corpo? Ma dice che fa regolare. Guarda, oggi sono in buona. Con l'imodium. Ma dai, non rovinarle. No, va bene. Come è andata? È andata non male, a dire la verità. Sì, sì, mi è piaciuta. Devo dire che il materassino ha fatto pum. Eh, sì, decisamente, scoppiato. E fare il Williams e Miley Cyrus... Che salutiamo. ...doctor. ... ... Grazie a tutti.